Ben arrivato, mio disgustoso peccatore! Benvenuto all'AzbiNoooooooooootel! Che cazzo ci fa qui? Se ci pensi, riflettere sul pensare è probabilmente il pensiero più difficile da metabolizzare. Ah? Come ti esci con ste strozzate? E fai venire lo sbocco? Oh ho 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 ho! Un maione lavorato a mano, Alastor! Davvero? Stai perdendo classe nel tuo stile? È un maione Vergil Killer! Ed è molto elegante, te lo assicuro! Cosa? No, non lo è! Non sono proprio la moda, come dicono, ma sono anch'io che... Asker, dammene un altro! La vuoi smettere di ammazzare gente nel mio bar? Un altro! Un altro!